Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Questo gameplay walkthrough della carriera di Power Wash Simulator ci ha portati a pulire ora un jet privato, dopo aver pulito nello scorso episodio uno scivolo a spirale. Andiamo subito a vedere il jet privato, lo faremo con un annesso achievement, proprio come lo scorso episodio. Tempismo perfetto. Come puoi vedere ho avuto qualche problemino con il mio jet privato. Qualche problemino, cioè dove l'hai portato in una discarica, è quello che succede quando voli troppo vicino al sole, o in questo caso a un vulcano e all'oceano. Vista l'abilità e la discrezione con cui hai rimesso nuovo la mia trivella, so che sei la persona giusta anche per questo lavoro. A questo quindi è lo stesso della trivella. Come scoprirai, il mio jet ha qualche peculiarità. Confido nella tua solita discrezione, in cambio di un l'auto compenso. Beh, 800 dollari non sono male, quindi direi di iniziare il lavoro. Per prima cosa, per l'obiettivo, dobbiamo pulire praticamente le modifiche che ha fatto questo aeroplano, ovvero il laser e i, questi qui, i propulsori gravitazionali. Guardate, guardateli qua. Fieri. Quindi direi di iniziare senza ulteriori indugi a pulire. Ecco qua. Come sempre vi ricordo che durante il video parlerò abbastanza poco, perché voglio lasciarvi godere del... Questo tra l'altro fa parte del laser, eh, questo cavo. Voglio lasciarvi godere del rumore ASMR dell'idropolitrice. Attento ovviamente a non pulire questa parte qui. Anche se no, questo fa parte del laser, quindi possiamo. Ma il supporto no. Ed anche perché, sinceramente, non c'è molto da commentare, quindi sarebbe un po' superfluo commentare una roba del genere. Ecco fatto. Perfetto. Ed ora questi. Grazie. 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 Ed ecco l'obiettivo che ha poppato. Ora possiamo darci la pazza gioia pulendo tutto l'aereo. Iniziamo da questo motore a reazione, va? Grazie. 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 Tu non vedi l'ora di saperne di più sul jet No sinceramente non vedo l'ora Nel senso che non voglio assolutamente Sapere niente di questo jet Solo perché sei tu Ti svelerò qualche piccolo segreto Andiamo bene Grazie 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 A prima vista sembrerebbe un jet come tanti Ma non è assolutamente così No tranquillo che anche a prima vista Non sembra un jet come tanti La sua fusoliera è costruita in grafene ed è pertanto più leggera dell'aria ma più resistente dell'acciaio. Non solo può raggiungere velocità di oltre 1400 km orari, e poi niente, non si regge più. Grazie a tutti. 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 Ovviamente sfrecciare a una tale velocità genera molto calore. Ok. Vediamo dove va parare. Una volta atterrato sopra le ali, puoi cuocerci una bourguignon di manzo in meno di tre minuti. Ammetto la mia ignoranza, non avevo mai sentito quella parola. Sapete cos'è? Scrivetemelo nei commenti. Sapete cos'è? Sapete cos'è? Sapete cos'è? Grazie. 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 Ma dove sta il cablaggio fusoliera che ci manca? Grazie a tutti. 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 Un'altra prova impeccabile di arte lavatoria. Ammetto che all'inizio avevo qualche dubbio che ce l'avresti fatta pulire macchie generate temperature così elevate, ma ancora una volta hai superato le mie aspettative. Quindi anch'io supererò le tue. Usa pure questo hangar per i lavori più ingombranti che potrebbero capitarti in futuro. Grazie, Blake. E questo episodio finisce qui nel prossimo andremo a pulire lo yacht. Io ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video.